Sì, sicuramente la meteorologia italiana in questo momento attraversa un periodo in cui fare chiarezza sulla professione di meteorologo, credo sia nell'interesse di tutti, sia di chi eroga i servizi, sia soprattutto nell'interesse dell'utenza, che si trova talvolta un pochino confusa e spaesata in un universo di offerta non sempre facile da capire. Questa è appunto la difficoltà di cui stiamo discutendo oggi. Per un cittadino spesse volte è molto difficile in questo universo di offerta, talvolta solo in apparenza tutta simile al proprio interno, invece ci sono delle grandi differenze e noi cerchiamo attraverso la certificazione della professione di meteorologo di dare all'utenza anche degli strumenti per distinguere la qualità delle forniture dei servizi. Come funziona questa certificazione? Come si fa ad accedervi? Beh diciamo che per capire, è complesso, è difficile da spiegare in pochi secondi, diciamo, ne stiamo proprio parlando, ci sono certificazioni internazionali, nazionali e regionali che vanno in qualche maniera messe a sistema. Per un pochino internazionali, diciamo, è un pochino internazionali, eccetera, ma non è un pochino internazionali che vanno in qualche maniera messe a sistema di un'altra, ma non è un pochino internazionali, ecco, è un pochino internazionali.